Sabato il governo spagnolo si riunir per attivare l'articolo 155. E, quanto ha dichiarato il portavoce dell'esecutivo spagnolo Inigo Mendec de Vigo. La risposta del presidente catalano Karl Spuigdemona all'ultimatum di Mariano Rajoy stata, infatti giudicata negativa. Quest'ultimo aveva dichiarato, se prosegue la repressione e l'assenza di dialogo il Parlamento potar procedere se lo ritiene opportuno a votare la dichiarazione formale di indipendenza che non stata votata il 10 ottobre. Il Consiglio dei Ministri straordinario che si riunir sabato approver dunque l'attivazione del 155. Che sar sottoposta al Senato. Il governo utilizzare tutti i mezzi in suo potere per ripristinare quanto prima la legalità e l'ordine. Costituzionale ha spiegato Mendez de Vigo per recuperare la convivenza pacifica tra cittadini e frenare il deterioramento economico che insicurezza giuridica sta causando in Catalogna. DRCT o HTTPS. T. Co. VZ3SXXX3 Il governo annuncia che si gadelante con il 155 ante la risposta de Puigdemont. Puigdemont pic. Twitter. Com. Rache945 IELPAS. Chiocciola e il trattino basso paese. 19 ottobre 2017 LL governo di Rajoy e il Partito Socialista d'opposizione a Madrid hanno concordato. Di proporre a Puigdemont di indire elezioni regionali in Catalogna in cambio della rinuncia ad applicare l'articolo 155, una proposta che sarebbe per stata accolta freddamente dal fronte indipendentista catalano. A. MPL IACN Puigdemont contesta a Rajoy y advierte che si indilogo il Parlamento votare la indipendencia. HTTPS. T. Co. 4NC 3KZ 0NBA Cancelletto e l'etima ora l'avanguardia. Chiocciola l'avanguardia. 19 ottobre 2017 Cosa prevede l'articolo 155 L'articolo 155 della Costituzione. Insieme al titolo ottavo sull'organizzazione del territorio dello Stato. Costituisce il modo con cui lo Stato spagnolo difendeci che è espresso nell'articolo 153 della Costituzione che parla del ruolo delle comunità autonome spagnole. Questo articolo dice che se un governo regionale non rispetta i suoi obblighi o agisce in modo da minacciare seriamente l'interesse dell'intera Spagna. Allora Madrid può intraprendere le necessarie misure per obbligarla in modo coatto ad adeguarsi o a proteggere tale generale interesse. In sostanza, l'articolo 155 stabilisce che lo Stato, in questo caso il governo di Madrid, può assumere il controllo di istituzioni politiche e amministrative della regione ribelle. Secondo i costituzionalisti le misure possibili vanno dalla sospensione del governo regionale al sottomettere i Mossos de Squadra, la Polizia Catalana, agli ordini del Ministero dell'Interno Centrale, sino alla chiusura del Parlamento regionale e la convocazione di elezioni regionali anticipate. Combo Puigdemongrage, foto ansa, get images, come si attiva il Premier Rajoy non può tuttavia invocare in modo unilaterale l'articolo 155. Prima dovrebbe informare lo stesso Puigdemont delle sue intenzioni, concedendogli una fase di riflessione per un'eventuale marcia indietro sull'indipendenza. Poi dovrebbe rivolgersi al Senato, la Camera Alta del Parlamento Spagnolo, dove il suo partito popolare ha la maggioranza assoluta. La proposta del Premier deve inoltre essere appoggiata da una commissione che, valutate le precise misure a livello legale, può inviarla al Senato per il voto. Una procedura che, secondo fonti parlamentari, potrebbe richiedere una settimana di tempo o anche dieci giorni. Altro su MSN. Berlusconi e il film di Sorrentino. Spero non sia un'aggressione politica. Corriere TV